Io personalmente ho cercato di affrontare la preparazione nel miglior modo possibile, anche in causa dei problemi che ho avuto l'anno scorso, per cercare di arrivare fisicamente nel miglior modo possibile alla partita con il Martin Sicuro, che sarà sicuramente una partita complicata come lo saranno tutte le altre da qui alla fine, perché il livello è molto alto, secondo me anche rispetto all'anno scorso parecchie squadre si sono rinforzate, però abbiamo affrontato il Pineto in Coppa Italia, sarà un test importante per verificare le nostre condizioni fisiche, abbiamo già affrontato il Pineto in Coppa Italia, indubbiamente sapevamo che il Pineto fosse una squadra preparatissima perché punta a vincere il campionato, ma abbiamo risposto bene e adesso cercheremo di applicare ciò che abbiamo imparato tatticamente e tecnicamente domenica con il Martin Sicuro. I miei obiettivi personali quest'anno sicuramente saranno giocare il più possibile, magari trovare qualche gol che possa aiutare la squadra e mettermi a disposizione, siamo una squadra parecchio giovane, però abbiamo giocatori di esperienza che ci aiuteranno a crescere e speriamo che quest'anno non dovremmo aspettare l'ultima giornata per la salvezza e magari arrivare il più in alto possibile, non si sa mai.